oh dopo una giornata di lampada in salotto sono proprio cotta e peta ma come la tolgo qui davanti a tutti tutti chi e poi si tolghi la mascherina non siamo mica più adesso ma la mascherina e non avevo capito quella ma che bella abbronzatura si vede sto bene sono abbronzata come un furetto proprio come come un furetto in che senso oh mio dio no petare come faccio adesso alle prossime conference ma guarda potresti metterti la mascherina così e al con della poi la poi fuori al contrario ma dici che funziona la testina sto scherzando guarda che non c'è da scherzare io con questa faccia ci lavoro e ci lavoro con questa faccia ci lavoro non so non so posso tornare di qui no non puoi tornare di qui perché sei andato tutta la settimana a lavorare in ufficio quindi ora te ne stai 15 giorni nella camera degli ospiti ma uffa a parte che sono 14 giorni e poi dai non succede mica niente non sono mica preso niente no dai su ma stai tranquilla ma cosa vuoi nessuno ma ma cosa hai fatto ma dai ma mi hai scoperto la tastiera ma dai che prendo freddo mi metti su tutto dai guarda che riesci a essere noioso anche nella camera degli ospiti eh ecco va bene grazie prego vabbè io dormo eh petta buonanotte buonanotte bacino bacino sta bene a guarda che chiudo perché sennò c'è troppa luce è ciao petta corn ok ciao ciao